Parliamo di Pinocchio. Attendevo tantissimo questo film, non vedevo l'ora di vederlo, soprattutto dopo la grandissima delusione ricevuta dal film live action della Disney, arrivato il 10 settembre se non sbaglio, di cui trovate già la recensione sul canale, orribile, uno dei peggiori film dell'anno. Attendevo questa nuova versione della storia di Pinocchio anche perché da quel che era trapelato, anche comunque rivelato in generale da fonti certe, come lo stesso Ghielmo del Toro, il film sarebbe stato molto diverso, partendo già dal fatto solo dell'ambientazione temporale, infatti il film è ambientato nel periodo fascista, totalmente diverso dalla storia originale di Collodi. Ne ho già parlato più volte, Ghielmo del Toro non è mai stato uno dei miei registi preferiti, non ho visto tutti i suoi prodotti, però quelli che ho visto mi hanno lasciato contento o abbastanza indeciso sul mio pensiero, però so che è un'opinione impopolare perché comunque riconosco che Ghielmo del Toro è un grande regista e per quanto mi riguarda non bisognava assolutamente un Pinocchio di questo genere per farmelo capire, anche se ovviamente questo film in stop motion è qualcosa di stupendo. Qualcuno è rimasto deluso dalla visione, personalmente non è il mio caso perché in generale mi piace tantissimo lo stop motion, è una delle tecniche d'animazione che preferisco di più se non quella che preferisco in assoluto, tanto che uno dei miei film preferiti in assoluto, ovvero Coraline e la Porta Magica è in stop motion, tralasciando l'animazione che ad un certo punto tra l'altro mi aveva quasi distolto dall'idea che fossero dei pupazzetti fotografati, non so quanti, 30, 30 fps, non so in realtà, però ho sparato. È davvero un'animazione molto molto fluida, ma ripeto, tralasciando l'animazione, quindi lo stop motion, la storia mi ha fatto impazzire. È una rivisitazione ovviamente, l'ho già detto, è ambientato nel periodo fascista, nel film ci sono tantissimi riferimenti all'Italia di quel tempo, uno tra tutti che compare più volte e sul finale compare in carne ed ossa, ok? Penso abbiate capito un po' tutti, non voglio fare spoiler, ma questo vabbè, non è che sia chissà che grande spoiler. Mi è piaciuta la parodia di questo pezzo di carne ed ossa, che è stato messo totalmente alla berlina e questo mi aspettavo da un film del genere, ma ho apprezzato tantissimo il modo di presentare le paure e ciò che si pensava in quel periodo, soprattutto nei confronti dei bambini costretti a vivere in un certo modo. Ho visto il film due volte, l'ho visto entrambe volte in italiano, quindi magari lo guarderò una terza per sentire le voci originali, sentire Ewan McGregor che è il narratore, ovvero il grillo, di tutto il film, infatti è il primo a comparire nei crediti. E ora che ci penso un po' di curiosità nello scoprire la cadenza italiana che, penso, Guillermo del Toro ha messo ai personaggi, magari dopo aver pubblicato questo video vado a dare un'occhiata al film in originale. Passando ad altro, capisco davvero quelli che si sono lamentati che questo non è effettivamente il Pinocchio che si è conosciuto finora, anche se la storia comunque fa tantissimi riferimenti alla storia originale, ma prende un'altra strada, arrivate a una certa. Capisco queste persone che si lamentano, ma non sono assolutamente dalla loro parte, perché, ok, non c'entra molto con il Pinocchio di Collodi, l'ho detto anche nel video recensione del Pinocchio orribile di settembre, io non ho mai letto il vero Pinocchio, non ho letto il romanzo di Pinocchio, però so anche in questo caso che alcuni personaggi, proprio come nel film Disney di settembre, sono stati aggiunti, non esistono nella storia originale, o almeno non hanno queste funzioni, però la differenza tra i due film si sente, e tanto. Sfortunatamente dietro il Pinocchio della Disney c'è Zemeckis, e mi dispiace tantissimo aver guardato quel film pensando a Zemeckis dietro la macchina da presa, però ripeto, Guillermo del Toro non ha assolutamente deluso le mie aspettative per il film. Penso che anche questo possa essere definito un musical, un mezzo musical, perché ci sono delle esibizioni canore dei personaggi, però sono per lo più, se non tutte in realtà, delle musiche diegetiche, quindi vengono sentite dai personaggi, non sono semplicemente dei discorsi o dei pensieri resi a musica, come in molti musical, e soprattutto una tra tutte di queste canzoni mi è rimasta in testa, in italiano, quindi sono davvero curioso di leggerla, di sentirla in originale, che magari potrebbe anche rivelarsi migliore. Il film è divertente, intrattiene anche, dura quasi due ore, un po' la durata si sente verso la fine, ma non annoia, almeno non mi sono sentito nemmeno una volta annoiato, quindi un grandissimo pro, e sul finale ho avuto i brividini, cosa che il film di Zemeckis voleva fare, ma non è minimamente riuscito. Qui ci sono sicuramente delle aggiunte, anche sul finale, che per quanto mi riguarda non hanno assolutamente intaccato la storia. Ripeto, ha davvero poco del Pinocchio originale, ma anche se vedere e rivedere la storia di Pinocchio in film e serie non mi dispiace, vedere anche queste versioni totalmente diverse, o in parte diverse, della storia lo apprezzo, e anche tanto, soprattutto in questo caso. Mi è piaciuto molto il personaggio del Grillo, originariamente interpretato da Ewan McGregor, non so il doppiatore italiano chi sia, però comunque l'ho già sentito, perché è il doppiatore di Ewan McGregor, almeno quello che si sente più spesso, e mi è proprio piaciuto il personaggio, nonostante a volte si perda in qualche scena un po' slapstick per far ridere i bambini, che comunque sono, penso guarderanno questo film, ma non sono il principale target di visione per quanto mi riguarda, perché ci sono delle scene anche abbastanza cupe, e ci sono anche delle morti molto amare, non si perde molto tempo su queste scene, e avvengono così. Mi è sembrato molto un film più adulto, più maturo, non indirizzato esattamente ai bambini, che comunque lo guarderanno, adesso non so la classificazione ufficiale di Netflix, ma se dovesse essere un 7+, avrei messo giusto qualche anno in più, perché per alcune cose l'ho trovato anche possibilmente pesante per un bambino, però davvero davvero stupendo. Ma ragazzi, prima di lasciarci facciamo una piccola parte con spoiler, quindi non dirò tutto, non parlerò del film nei dettagli, ma dirò solo qualcosina così a spizzichi e bocconi, quindi se non avete visto Gielmo del Toros, Pinocchio, uscite da questo video, intanto andate a guardare il film assolutamente, prima cosa, e poi magari tornate qui per discutere un po' con spoiler del film, entrando più nei dettagli. Vi ringrazio per aver visto questo video, se volete supportarmi, come sempre, i link sono nella descrizione, i miei social, i link di Pampling per acquistare t-shirt, tazze, calze, poster, chi più ne ha più ne metta, ci sono davvero tantissime robe a tema nerd, e non solo, tra l'altro. Il mio codice è sempre il Pensiero 4, che vi dà la possibilità di scegliere un paio di calze, inserirle nel carrello, e queste calze vi costeranno 0€, e se invece volete comunque supportarmi gratis, basta semplicemente un like, un'iscrizione se vi trovate qui per la primissima volta, e magari qualche condivisione, qualche commento, decidete voi. A me queste cose non possono che far bene, quindi vi ringrazio in anticipo. Ma passiamo adesso a qualche spoiler, non tutto, ripeto, iniziando a parlare della fata turchina, che qui non esiste, qui non c'è la fata turchina, non c'è nemmeno una fata, abbiamo lo spirito dei boschi, che è questa figura angelica, non esattamente come ci aspettiamo noi un angelo, ma forse come viene rappresentato più spesso in testi biblici, non so, penso di sì, forse, comunque so che gli angeli vengono rappresentati con al centro degli occhi, e qui ce ne sono tanti, sembrano quasi delle ali, sembrano quasi una coda di un pavone in realtà, ma questi sono occhi veri, che si chiudono e si aprono al posto degli occhi del personaggio, che sono fermi come la bocca, forse è una maschera quella che ha il personaggio, non lo so, comunque mi è piaciuto molto, mi è piaciuto molto questo cambiamento, non c'è la fata turchina, c'è questo spirito dei boschi, che dà vita a Pinocchio, e poi gliela ridà verso la fine, grazie al desiderio del grillo, ci sono un po' rimasto male, perché almeno nella versione italiana, per ben due volte, sembrava che il personaggio dovesse fare una rima, con bambino, pino, bambino, una cosa del genere, con gli incantesimi, e non l'ha fatta, veramente, entrambe le volte ci sono rimasto di merda, poi magari in originale le rime le fa, ma non credo, perché altrimenti le avremmo sentite anche in Italia, e se non sbaglio il personaggio è doppiato da Tilda Swinton, forse, o è lei doppiata da Tilda Swinton, o la sorella, quella che Pinocchio incontra ogni volta che muore, tra l'altro questo fatto che Pinocchio ha praticamente le vite infinite, anche se c'è un contro in questa cosa, infatti c'è la possibilità, morendo sempre di più, che rimanga lì per sempre, in pratica, però tutta la parte nell'aldilà, almeno quello che sembra l'aldilà, con i conigli neri che portano la bara, che è riferimento ovviamente alla storia originale, proprio questa scena è inquietantissima per quanto mi riguarda, compresa la canzone, anche se poi viene smorzata dalla partita a poker di questi conigli, che poi viene ripresa più volte nel film, e anche sul finale, con una mini post-credit, in realtà no, proprio i crediti del film iniziano con una scena con il grillo, che ormai è morto, perché sul finale muoiono praticamente tutti e rimane solo Pinocchio, tristissimo come finale, e proprio per questo magari mi è piaciuto tanto, il fatto del grillo che sta sempre all'interno del cuore di... del cuore, vabbè, del posto dove dovrebbe starci il cuore di Pinocchio, e soprattutto quando ritorna sulla fine è straziante, con il pacchetto di fiammiferi usato come... come... come bara, e sul pacchetto ci stanno i conigli, giusto per fare un rimando, poi le tre lapidi, quella di Carlo, che è il figlio di... di Geppetto, il primo figlio di Geppetto morto a causa di una bomba in una chiesa, e quella scena mi è sembrata un po' esagerata per alcune cose, l'avrei preferita in altro modo, ma questo non significa che non mi sia piaciuta, anzi, soprattutto per quel che comporta dopo, tutto quello che succede dopo la morte di Carlo, dopo l'esplosione della bomba nella chiesa, tutte le scene di Geppetto depresso ubriaco, che poi, appunto, rompe il pino per fare Pinocchio, ecco, tutto bellissimo. Stavo dicendo, appunto, le tre lapidi, Carlo, il figlio di Geppetto, Geppetto stesso, che muore dopo qualche anno, non ci viene detto quanti anni passano dal finale effettivo, dopo l'uscita dalla bocca del pesce cane, dall'uscita dalla bocca del pesce cane, in realtà dall'esplosione del pesce cane, facciamo così perché c'è anche questo cambiamento, non ci viene detto quanti anni passano, ma sembrano passare veramente pochi anni, perché Geppetto è comunque già vecchio fin dall'inizio, quindi al massimo una... non lo so, sembra davvero poco, perché comunque anche il grillo muore da lì a poco, e, ok, magari non è così tanto realistico, ma un grillo non è che viva così tanto. Se vogliamo proprio esagerare, vogliamo dare un annetto, due anni al grillo? Non so adesso quanto vivono realmente i grilli, ma non penso nemmeno un anno. Ok, vivono circa un anno, quindi pensando magari che il personaggio fosse vivo da un po', se vogliamo appunto esagerare, come ho detto, due o tre anni, non credo sia passato tantissimo. Poi muore anche Spazzatura, che è un nuovo personaggio, almeno credo, non so se magari fa una piccola comparsa nel romanzo, ma sicuramente non ha la parte del gatto, nel gatto e la volpe qui ha un po' quella parte all'inizio, poi diventa un alleato di Pinocchio. E anche Spazzatura in realtà mi è piaciuto come personaggio, anche se un po' dall'inizio si capiva già che fine avrebbe fatto la sua evoluzione, quindi da che parte sarebbe stato alla fine. Ecco, per esempio la morte del conte volpe, che qui ha naturalmente la parte della volpe. Ecco, è una morte totalmente messa lì, che viene tralasciata subito, si spiaccica sullo scoglio, basta, non lo vedrete più. Molto, molto cruda come roba, mi ha lasciato un po' spiazzato e mi è piaciuto. Ecco, l'ho già detto prima nella parte no spoiler, ci sono molte, scusate, ci sono molte morti, così messe lì letteralmente a caldo, che ti spiazzano, compresa la morte del padre di Lucignolo, che qui ha totalmente un altro senso come personaggio, non c'è tutta la parte del paese dei Balocchi, non avrebbe avuto nemmeno senso, anche se il campo d'allenamento può sembrarlo un po', non nel vero senso della parola, ma i due posti possono essere considerati punto di evoluzione effettiva di Pinocchio e anche di Lucignolo, quindi giocano quasi lo stesso ruolo, appunto la morte del padre di Lucignolo è lì, la bomba addosso, stop, addio. Forse Lucignolo è l'unico personaggio che non ha un'effettiva chiusura, l'ultima scena in cui si vede è proprio lui che cammina lì e basta, non mi sembra compaia più, quindi magari avrebbero potuto fare qualcosina di diverso. Il personaggio in carne e ossa che arriva alla fine è naturalmente Mussolini e ho adorato il modo in cui l'hanno preso per il culo per tutta la durata della sua presenza sullo schermo, già partendo dal fatto che l'hanno reso totalmente in modo diverso da com'era nella realtà, anche nel modo di parlare e di esprimersi, e anche comunque nella canzone che Pinocchio e Spazzatura fanno, che cantano nello spettacolo, a Catania tra l'altro, che alla fine penso sia comunque quello che credano tutti di Mussolini, non è che sia così tanto sannato dalle persone normali. Forse avrei levato qualche minutino giusto nelle ultime scene all'interno del pesce cane, che tra l'altro fa spaventare, assolutamente, è terribile quel pesce cane, non perché è reso male, ma fa davvero paura. Non serve aggiungere tentacoli a altre parti di animali per renderlo pauroso. Avete capito? Disney, Zemeckis, e in realtà poi ho finito qui, non ho altro da dire. Volevo dire anche di meno, in questa parte spoiler mi sono dilungato un po' di più, ma ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate voi di questo Pinocchio, a me è piaciuto tantissimo, lo reputo anche uno dei migliori film dell'anno, e infatti lo aggiungerò alla lista che arriverà poi nel 2023, nel recap 2022, che vi ricordo conterrà i video migliori film del 2022, peggiori film del 2022, film che attendo nel 2023, e magari non lo so, aggiungo anche forse un video sulle serie, ma fatemelo sapere con un commento. Vi ricordo ancora una volta che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social, il link di Pampling, codice ilpensiero4 per supportare il canale, avere un paio di calze gratis a scelta, e niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale, Andri passa e chiude, ciao!